Posso tornare a casa? È la domanda che fanno i bambini in ospedale. Con il tuo aiuto e con AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, possiamo curare i bambini ammalati di leucemia anche a casa, dove potranno sentire il calore di chi gli vuole bene e vivere sereni mentre lottano contro la malattia. Dona 2 euro con un SMS al 45502. 2 o 5 euro se chiami da rete fissa. 45502. Non è gratis. Non è poco. Per loro è tantissimo. Grazie a tutti.